Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nel terzo episodio del Road to Legend Padoin Gli ultimi due episodi sono andati veramente male per le partite, perchè le abbiamo perse tutte e due malamente Con la sfiga, gli squadroni che ci trovavano perchè il matchmaking andava a cazzo, lo script eccetera eccetera Una serie di cose si è messa contro di noi, un complotto Dunque andiamo in questo terzo episodio a fare la partita ovviamente, però non su stagioni online Ma bensì, dove era? Non lo trovo più Ecco, stagioni, partita singola online ecco, perchè me l'hanno consigliato Perchè in caso perdiamo, meglio non perdere punti ecco per le stagioni e retrocedere Detto questo, andiamo a trovare la partita, la sua squadra che ci mette davanti Insicata la squadra, Benzema, Rodrigo, Modric, Kroos, ma che cazzo di matchmaking Ci apre il culo questo Speriamo bene, e si comincia Dai Vai Corri sulla fascia Kroosala Dai, no Vai Traversa No, ce l'hanno con noi Ce l'hanno con noi È assurdo Inter e cazzo di partite Neanche un gol Traverse, parate Padoin Il gol di Padoin Il gol di Padoin Il gol di Padoin È già un upgrade in questo terzo episodio, finalmente Ma un gran gol di Padoin Un gran gol Rivediamolo Simone Padoin Che gol Mamma mia, rivediamolo No, non ci ha fatto rivedere Che mafia Però siamo avanti 1-0 Finalmente Dai, e questa La vinciamo Oddio, come l'ho ammazzata quello No, 1-0 C'è 1-1 È assurdo questo gioco Questo Rodriguez Ma che palle Si è fatto tutta la squadra Avanti e indietro Zigzag Ma che palle Fa impazzire questo gioco Non si può mai vincere una partita Grande contropiede Ma ne hai Padoin No Gli ha preso palla, io spero Perché gli ha fatto un gran fallo Ivan Fallo Fallo Che stronzo Dimmi che rigore Pepe Il macellaio Pepe Oddio Da qua io metterei un bel padoin Padoin Segnaci Oddio Come era passata Però c'è la parata Mannaggia Ivan da fuori Che culo Ha preso palo Ha preso palo Oddio che contropiede Manai No ma dai Ma questo non sa fare niente Per fortuna abbiamo l'upgrade E metteremo tipo un yang Perché fa schifo questo Connessione il tuo avversario Si è interrotta Verrà realizzato il rapporto Si è vinta Perché ce l'ha Acquittato Praticamente Abbiamo due upgrade Non ho potuto vedere Il migliore in campo Neanche il peggiore Allora andremo Ad Pergredare due giocatori A piacere nostro Allora ragazzi Finiamo questo Terzo episodio In bellezza Con Rage Wit Abbiamo fatto infatti Due upgrade Masiello E Yang Che veramente Sono due giocatori Fortissimi Soprattutto Yang Perché Manai Faceva schifo In attacco Speriamo Con Yang Di fare qualche goal Che è veramente Buggato Per questo episodio Finalmente Padoin Grazie a lui Il primo goal È stato proprio suo Cioè Ha fatto un goal Spettacolare Lasciate un bel pollicione In su Commentate Con Ditemi anche Qualche giocatore Argento Buono Per le prossime posizioni Che andremo Ad appogredare Condividete il video Lasciate un bel pollicione Perché veramente Ci tengo a questa serie Da TheGamertube È tutto Bella